Non solo chiedono un contributo per la festa di Santa Rita, spacciandosi per componenti del Comitato Festa, ma affiuntato il business, ora si presentano alla porta dei cittadini, proponendosi a metà tra santoni e venditori di grazie, promettendo in cambio di qualche moneta in più santini miracolosi, capaci di disolvere i casi più disperati. Avvoltò in volo, appena scattata la novena di Santa Rita, ben vestiti e agghindati con monigli alla cosanta, si aggirano da qualche giorno in città a caccia di fedeli da raggirare. Ieri la polizia è intervenuta nel centro storico allertata da una coppia di anziani finita nel mirino dei truffatori che sfruttano il nome del Comitato Festa per racimolare soldi. Lancia l'allarme anche Antonio Benevento, danni il presidente dell'unico comitato autorizzato a presentarsi con il nome della Santa dei casi impossibili. State attenti, perché ne fanno ben uso proprio per i soldi, non portano niente nella parrocchia. Sono io l'unico che va girando ancora per Santa Rita, da anni, quindi mi conoscono, quindi diffidate da queste persone che vengono nelle abitazioni a chiedere soldi. Intanto la comunità fa sentire la sua devozione per la paladina degli ultimi. Certamente gli avellinesi, come ogni anno, sono frequenti nella chiesa di San Francesco Saverio per venerare Santa Rita. Siamo partiti il 13 con il Novenario, alle 17.30 c'è il Rosario e alle 18 la Santa Messa per i nove giorni di arrivo. Poi al 22, che c'è alle 17.30 la Messa e poi alle 18 partiamo con la grande processione per le vie della città. E che vi aspettate comunque un picco di affluenza? E credo proprio di sì, già si vede che la gente affluisce sempre di più. E mi auguro che l'amministrazione faccia parte per la processione e per questi giorni di far venire qualcuno davanti alla chiesa, come hai visto Ottavio, è tutto sporco, da erbacce. La Santa dei casi impossibili speriamo che possa anche fare un miracolo per far ripulire l'aria. E soprattutto speriamo per il tempo.